eccoci, eccoci qui ragazzi del WinBlog in ultimo, scusate, aggiornamento arca misera, rapidissimo per dirvi che finalmente i video sono pronti due video del WinBlog da caricare sono in fase di rendering ora sul pc e se vi apri vi ricaricherò e niente ragazzi volevo stravisare questo, vedete a ritardo ma c'è un problema con il pc poi qua da noi c'è un... sta nevicando, adesso ha un pulito parecchio le strade ma ieri, ieri, l'altro, non so, beh, vi faccio vedere fuori non so se si vede è stato un casino continuiamo a saltare anche la corrente ma sento, mentre faccio il rendering dell'altro video quello che è già pronto è che dovrei caricare penso oggi o domani, comunque in questi giorni salti, è saltata la corrente tre volte tre volte ho dovuto rifare il rendering da capo, no? è stato un'agonia fare i video per fortuna c'è la telecamera a batteria benumale c'è l'altro che è l'altro che carica per questo, se si vede specialmente nel... nel primo video che caricaravo nel secondo, non so, in quadro di due che io continuavo a cambiare continuamente la batteria perché saltava la corrente allora riuscivo a caricare un po' la batteria e poi si scarica e poi la rimetteva allora perfettavo, mettevo subito subito metteva l'altro in carica e quando tornava la corrente la caricavo così facevo quindi, ragazzi, è stato una vera odissea però alla fine ci ho riuscito comunque, ragazzi, tranquilli tornerò non scapperò via probabilmente adesso perché la mia scuola fino a giovedì e dovremo tornare a una scuola giovedì probabilmente quando torno a una scuola non si farà video frequentissimi perché anche tuttora perché sono a casa ma come ogni volta che fa l'anno invece sono i vari studi dei problemi guardate, sta nevicando di nuovo per me anche se dove vado a scuola io ne ho fatto più di un metro quindi io qui sono in una zona vicino al mare ho qualche serio dubbio che riuscirò a tendere su giovedì perché comunque tutta sta neve vabbè speriamo bene, ragazzi dai, ci si vede presto su YouTube dovrebbero caricare a breve gli altri video dovrebbero essere già pronti a randare dai, ragazzi ci si vede a breve grazie